Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Killer Kinder Oggi siamo qui per andare a fare 2000 coppe per sbloccare il brawler che io amo tantissimo Ovvero Dynamike Oggi utilizzeremo Nita perché ce l'abbiamo a 0 coppe Anzi no Andiamo ad utilizzare Jesse Che in questa mappa è molto buona Jesse Ok Abbiamo due cassette lì Penso che andremo proprio a prendere quello Attenzione c'è una tara Abbiamo già colpito Ottimo Abbiamo fatto anche le cassette Bella tara Bella per tara Bella per tara Bella bella due cassette per noi Forse anche tre Ok è allontanato da quella bruttissima tara Ok preso la terza Il terzo power up Uno Due Mazzola ha funzionato proprio Attenzione eccola qui La zica Attenzione questo poi c'è un tre power up Non so dove l'ha presi Allora Non dobbiamo assolutamente andare a perdere Se no non facciamo il grado Preso Sto lagando No Presa la tarretta Presa la tarretta Presa la tarretta No Ci sciotta questa No Va bene Va bene Va bene Sto così uccidendo Ma quella rosa bruttissima Va bene Più sei coppie Più sei coppie Ci vediamo ancora Allora Allora Ragazzi Sono stanchissimo Ok meno male che è tardo Questo è il primo Mi ha lanciato un bombone Sto infame Oh Che bestia sto david Oddio stavo rischiando tantissimo ragazzi Non c'è niente Dai vieni il primo Ok Madonna il dynamike Cosa mi aveva fatto E niente ragazzi Ancora Quarta posizione Scusate se ero in silenzio Ma stavo Mi stavo concentrando Mi spiace Va bene Va bene Va bene Abbiamo fatto 12 coppie Da di coppie Non servono altre 10 Teniamo di concludere Con una vittoria Così Andiamo proprio Alla perfezione Si è la biblaga La biblaga La biblaga Non è vero Non è vero E da No Il barrel Se prende Il power up Indisturbato Bravo barrel Campione del mondo Questo barrel Io so che ti dico Il lancio Una Ulti Così Ok Fatto barrel Mi pare di apprendere Paura Degli altri Adesso Presa Il genio Il genietto Cattivissimo Bruttissimo Non c'è nessuno Lì Eccola qui La nostra Bibbiozza Attenzione Poi c'è bibì Si c'è bibì Ehi Eugenio Vieni qua Dai Vieni qua Eugenio Eh Todd Si chiama Search your name Search your name You feel me? Oh Sta rosa Tiè Guarda che c'è Eh Cosa fa questo? La campione Bel championship Dai dai Facciamo sta vittoria Facciamo sta vittoria Facciamo sta vittoria No 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 Per due coppe Ragazzi Non sblocchiamo Dynamike No Mannaggia Carletto No 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 vabbè Mannaggia Carl Mannaggia Magari muore Quel tumore Allora Beccate questa Beccate questa Altra pure No 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 Dai Dai Senti Non ci credo Che si è arrivato Settimo E Eccole Le più due coppe E dai E duemila precise Ragazze Si come ragazze Ragazzi Abbiamo questa cassetta Che non si trova Un brawler Niente Oh Tre gemme Buonissime E eccoci Qui Per il Dynamike Quanto dice Vuole Allora Andiamo a selezionarlo Dynamike Decimo Brawler Tra l'altro Questa mappa E' molto buona Per Dynamike Vediamo cosa facciamo Allora Ok Bello 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 No E' bellissimo E' bellissimo Vabbè Questo è stato proprio Uno degli inizi migliori Perché devo riprendere la mano Dynamike Tantissimo Che non lo gioco Va bene Facciamo questa partita E poi Chiudiamo Attenzione Un altro Dynamike Io lo prendo Io lo prendo Non mi prende Lo prendo Non mi prende Ok 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 Shottato il Dynamike Avversario Vediamo Con Dynamike E che non va a porto Eh Tanto prendo Questa io Facciamo 2300 Forse Vediamo Vediamo Dove Dove sei Eccola Qui No Vabbè No 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 Vabbè Va benissimo Così Abbiamo Sbloccato Dynamike 2008 Coppe E Niente Io Non posso fare Anche di Fai Barbie Ovviamente Dovete Facare Like Condividere Per Scrivere Io Rispetto Un tantissimo Con nuovi episodiosi Su Brawl Stars E Bella